E voi? Siete pronti per Halloween? Io? Sì! Due ricette per grandi e piccini, dolcetto scherzetto. Biscotti di frolla sabbiosa con marmellata di zucca. Il primo segreto per una pasta frolla straordinaria è il burro freddo. Vado nel mio frigorifero Bispoch. Sì, sì, tranquilli, non lo uso tutto. Farina doppio zero, zucchero. Secondo segreto, farina di nocciole. Pizzico di cannella, pizzico di zenzero. Impastiamo tutto e mettiamo in una sacca da pasticcere. E adesso marmellata di zucca. Priviamo la zucca dalla parte esterna e la tagliamo a cubetti. Piano cottura, infinite line con cappa integrata. Accendiamo i motori. Noce di burro. Succo d'arancia. L'impasto burroso, bello morbido, mi permette di fare queste ciambelle. E al centro un bel cucchiaino di marmellata di zucca. E ora una delle mie famose torte rovesciate con salsiccia gorgonzola, ovviamente Halloween con la zucca. La pulisco e la dispongo sul fondo della tortiera. Così, a cucchiaiate generose, abbondanti, come piacciono a me. Porro a rondelle. Il porro a crudo sul fondo che cuocerà poi con il vapore che si formerà. Sgraniamo la salsiccia fresca, tutto crudo tranne la zucca. Una generosa spolverata di formaggio grattugiato. Pasta sfoglia tirata rotonda. E copriamo la tortiera. Due ricette, ma due cotture differenti. Come faccio nel mio Dual Cook Flex. Inforniamo la torta nella parte inferiore del forno, modalità forno statico a 190 gradi. Inforniamo i biscotti, stavolta modalità ventilata a 160 gradi. Il tutto per 30 minuti. Sui social mi chiedete spesso, ma posso cucinare un dolce o un piatto salato insieme? Sì, nel Dual Cook Flex, senza scambio di odori. Dolcetto o scherzetto?